Grazie di cuore per l'occasione, l'opportunità e l'invito. Grazie di cuore perché stiamo vivendo una stagione, dice il Ministro dell'Interno, di novità, di radicali cambiamenti. Ed è vero. Ed è vero a livello nazionale e è vero a livello internazionale. Ma quello che forse dobbiamo mettere al centro di questa fase di transizione e di cambiamento è una riflessione sul modello di Stato che abbiamo in testa e di conseguenza su come le forze dell'ordine e della Polizia riescono ad essere cruciali strumenti non soltanto di prevenzione, ma di costruzione di un senso di comunità e di Stato.